Liberate i politici, fuori i nostri camerati! I sassi stanno tirando, signor prefetto! Sono in tanti armati e sparano! Cosa? Non solo 30 uomini e tutti padri di famiglia! I carabinieri! Ma li ho chiamati, non ci sono! Li hanno mandati a Trevignano per lo sciopero delle Mondariso! Togliamo i camerati! O i fascisti o buttiamo giù la porta! Fuori! Signor prefetto, se no non sa lei che cosa si deve fare! Ma come posso saperlo io? Li vedi pochi attiviciati? Uè, ma mi vedi una grotta? Addio Sant'Ursola, qui si sono mutinati! Fuori i camerati, siete liberi! In testa provvisoria! In testa provvisoria di provvisoria, c'è solo il porto governo, fuori! E non ho detto che sarebbero venuti di spazzita! Questa è tua! Chiappa! E io e io! E guarda, ti trovo, guarda! Guarda, guarda! Guarda, andiamo a sbrigarsi! Guarda, ci mette, siete liberi, fuori! E tu qui sei? Sei dei nostri? Ehi, ahia, l'alattolo politico! Brucchetti, comanda! No, no, non è politico, è fascista, sta con noi! Cammino, dai! Ma che è successo? Abbiamo vinto? Siamo pronti per marciare su Roma! Ma la terra se la dà? Ehi, cagliama! 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 Cagliama!